già il sole inchinato al vespro in gran parte il caldo diminuito quando le novelle delle giovani donne e di tre giovani si trovarono essere finite per la qualcosa la loro reina piacevolmente disse ormai care compagne niente cosa resta più a fare al mio reggimento per la presente giornata se non darvi reina nuova la quale di quella che è avvenire secondo il suo giudicio la sua vita è la nostra a onesto diletto disponga e quantunque il dipaia di qui alla notte durare perciò che chi alquanto non prende di tempo avanti non pare che ben si possa provvedere per l'avvenire e a ciò che quello che la reina nuova li libererà essere per domani mattina opportuno si possa preparare a quest'ora giudico doversi le seguenti giornate incominciare e perciò a reverenza di colui a cui tutte le cose vivono e consolazione di voi per questa seconda giornata filomena discretissima giovane reina guiderà al nostro regno è così detto in piede vatesi e trattasi la ghirlanda dell'alloro a lei reverente la mise la qualcosa prima e appresso tutte le altre e i giovani similmente salutarono come reina e alla sua signoria piacevolmente soffersero filomena alquanto per vergogna arrossata veggendosi coronata del regno e ricordandosi delle parole poche avanti dette da pampinea a ciò che milenza non paresse ripreso l'ardire primariamente gli uffici dati da pampinea riconfermò e dispose quello che per la seguente mattina per la futura cena farsi dovesse qui vi dimorando dove erano e appresso così cominciò a parlare carissime compagne quantunque pampinea per sua cortesia più che per la mia virtù ma abbia di voi tutte fatta reina non sono io perciò disposta nella forma del nostro viver dover solamente a mio giudizio seguire ma col mio il vostro assieme e a ciò quello che a me di far conosciate e per conseguente aggiungere e meno mar possiate a vostro piacere con poche parole ve lo intendo di dimostrare se io ben riguardato oggi alle maniere di pampinea tenute egli me le pare avere parlamente lodevoli e dilettevoli conosciute e perciò infino a tanto che le o per troppa continuanza o per altra cagione non ci devenissero noiose quelle non giudico da mutare dato adunque ordine a quello che abbiamo già a fare cominciato quinci levatici alquanto non andremo sollazzando e come il sole sarà per andare sotto ceneremo per lo fresco e dopo alcune canzonette e altri sollazzi sarà ben fatto l'andarsi a dormire domattina per lo fresco levatici similmente in alcuna parte ne andremo sollazzando come a ciascuno sarà più a grado di fare e come oggi è ben fatto così all'ora debita torneremo a mangiare balleremo e da dormire levatici come oggi state siamo qui al novellare torneremo nel quale mi pare grandissima parte di piacere e di utilità similmente consistere è il vero che quello che pampinea non poteva fare per lo esser tardi eletta al reggimento io il voglio cominciare a fare cioè a restringere dentro alcun termine quello di che dobbiamo novellare e davanti mostrarlovi a ciò che ciascuno abbia spazio di poter pensare a alcuna bella novella sopra la data proposta a contare la quale quando questo vi piaccia sia questa che con ciò sia cosa che dal principio del mondo gli uomini siano stati da diversi casi della fortuna menati e saranno infino al fine ciascun debba dire sopra questo chi da diverse cose infestato sia oltre alla speranza riuscito al lieto fine le donne e gli uomini parimente tutti quest'ordine commendarono e quello dissero da seguire dio neo solamente tutti gli altri tacendo già disse madonna come tutti questi altri hanno detto così dico io sommamente esser piacevole e commendabile l'ordine dato da voi ma di special grazia vi cheggio un dono il quale voglio che mi sia confermato per infino a tanto che la nostra compagnia durerà il quale a questo che io a questa legge non sia costretto di dover dire novella secondo la proposta data se io non vorrò ma qual più di dire mi piacerà e a ciò che alcun non creda che io questa grazia voglia siccome uomo che delle novelle non abbia alle mani infino da ora son contento di essere sempre l'ultimo che ragioni la reina la quale lui estollazzevole uomo e festevole conoscea e ottimamente s'avvisò questo lui non chiedersi e non per dover la brigata se stanca fosse del ragionare rallegrare con alcuna novella da ridere col consentimento degli altri lietamente la grazia li fece e da seder levatasi verso un rivo d'acqua chiarissima il quale d'una montagnetta discendeva in una valle ombrosa da molti albori fra vive pietre e verdi erbette con lento passo se ne andarono quivi scalze e con le braccia nude per l'acqua andando cominciarono a prendere vari diletti fra sé medesime e appressandosi l'ora della cena verso il palagio tornatesi con diletto scenarono dopo l'acqua al cena fatti venire gli strumenti comandò la reina che una danza fosse presa e quella melandola lauretta emilia cantasse una canzone da leuto di dioneo aiutata per lo qual comandamento lauretta prestamente presa una danza e quella meno cantando emilia la seguente canzone amorosamente quindi